Amanti dell'allampicata, preparatevi al conto alla rovescia. Dal 5 all'8 maggio ritorna l'appuntamento con il più grande raduno di Woodring al mondo, il Mello Blocco. L'edizione 2016 è pronta anche questa volta a stupire. Come al solito sarà la riserva naturale della Val di Mello a far raccogliere a questo evento capace di unire la passione per l'allampicata con l'amore e il rispetto per la natura. Anche in questa tredicesima edizione, infatti, non mancheranno incontri sullo sviluppo ecosostenibile della montagna e seminari sullo yoga per distendere corpo e mente e l'assegno esterale ed intrattenimenti che uniranno in un'unica grande famiglia i migliaia di arrampicatori provenienti da tutto il mondo. Al fascino del Mello Blocco, infatti, nessuno può resistere e nonostante il meteo avverso delle ultime edizioni, i partecipanti sono sempre stati in continuo aumento, provenienti persino da Ecuador, Turchia ed Australia. Fra di loro, semplici praticanti ma anche campionissimi della disciplina, fra cui Adam Ondra, Katarina Sourvain e Jörg Verhoeven, tutti insieme come una grande famiglia per un unico scopo, fare dell'allampicata il proprio stile di vita. Le prescrizioni sono già aperte, basta accedere al sito melloblocco.it e compilare l'apposito modulo. Ora non vi resta che spolverare le scarpette e scaldare i muscoli, il Mello Blocco vi aspetta!